Il secondo argomento è quello della riduzione degli sprechi. Siamo una società, soprattutto quella occidentale, ma ormai tutto il mondo globalizzato soffre dello stesso problema, che spreca. Quindi moltissima energia, moltissime materie prime vengono male utilizzate. Quindi da un lato tecnologia nuova per migrare verso le energie rinnovabili, ma dall'altro tecnologia e soprattutto intelligenza, etica, per toglierci di mezzo la colossale fetta di spreco che non serve a nessuno, ci fa spendere soldi inutili e pregiudica l'ambiente in tutti i settori, non solo nel clima. Grazie a tutti.